sono due anni che non battiamo tete, dodò, dodò e tete, tete, dodò, dodò e tete, gulacchita è morta hanno un portiere di 97 anni, non riescono a massacrarlo, anzi fa pure i miracoli, fa pure i miracoli alla fine ma lascia stare quei due tiri alla fine, ma l'Inter tutta la partita, oltre alla traversa di Barella e quelle due occasioni all'87esimo minuto, è il Skriniar che faceva un miracolo a destra sinistra in difesa, che cazzo ha fatto, che cazzo ha fatto zero, zero, siamo una squadra di merda in Champions League, anzi no, ti caso già la verità contro il Real Madrid dell'Inter mi è piaciuta, è stata sfortunata, però non si può vedere un Inter contro lo Shakhtar Donetsk che fa schifo al cazzo, abbiamo fatto schifo al cazzo, hai una puttana contro dodò e tete, titigno, mimigno i morti e mammata e che cazzo, e che cazzo ma porca troia, porca troia, il portiere loro è del 1924 non riesco a ci fregare una pallonata di cui uno mannere dalla porta ma il caro Zecco, Zecco, madonna Zecco è più facile sbagliarlo quel cazzo di no che metterla dentro e che caporchio le cazze ma oggi non mi è piaciuto nemmeno la cosa, come cazzo si chiama? il terzino destro nostro, Dunfris ma dico no, va più veloce da Kim e ha una gamba lunga e allungati sta cazzo di palla, no vai in profondità pure tu, si ferma sempre incazzato e cammina in culo, chi te è morto pure a te? barello ogni anno che vai in quel cazzo di campo prende sempre la traversa chi te è morto, chi te è stramorto comunque ragazzi, l'Inter non mi è piaciuta proprio non si può iniziare il secondo tempo che dice ma il primo tempo forse c'è un po' di tattica, facciamo lì, facciamo uscire fuori ci sono tante cose, no? che in Serie A noi non sappiamo ma il secondo tempo tu non puoi entrare non puoi entrare e fai giocare loro cioè noi abbiamo avuto le nostre il portiere dello Shakhtar ha fatto le due parate all'ottantasettesimo e all'ottantanovesimo minuto ma siete vergognosi, oh! ma insomma, se cazzo di gironi li vuoi passare sì o no? e se non ti vuoi fai giocare a Collorov, a Gagliardini e ti dedichi solo al campionato a tu, tu, quazzo! questa per me è come una sconfitta questo pareggio, certo, che un punto ti può fare anche passare i gironi però, per me è una sconfitta, voglio, per me è una sconfitta perché tu, devi, tu da campione d'Italia, devi andare lì li devi bastonare queste squadre qui diciamo, ma Ruti Ucaz! Ruti Cuglione! no, andiamo lì? facciamo le belle statuette di Ucaz! comunque, l'Inter non mi è piaciuta migliori in campo dell'Inter Milan-Skrignar Skrignar è un difensore talmente forte che secondo me non lo sa nemmeno lui quanto è forte complimenti, un grandissimo applauso a Milan-Skrignar c'era Noglu entrato, non ha toccato una palla io non lo so, boh, che cazzo di boh senza senso entrano in campo minchia, se lo dovevano mangiare l'erba ancora chi è morto comunque, ciao a tutti!